Buonasera ragazzi, bentornati ancora oggi su Crypto Salad, io sono Federico, è il 18 maggio 2021, facciamo un rapido aggiornamento, Bitcoin 43.500 dollari all'incirca in questo momento, quindi ci aggiorniamo rapidamente sulla chart, guardiamo un importante indicatore, direi forse il più importante che sta per flashare, quindi darci un segnale rialzista molto importante, si tratta della Shribbon, quindi guardiamo questo indicatore e analizziamo anche storicamente come ha performato questo tipo di segnale, guardiamo anche ragazzi una chart che è inedita, non abbiamo mai guardato insieme, sto parlando della chart che riguarda la market cap totale del mondo delle crypto per fare anche qualche analisi a riguardo, quindi ragazzi come al solito se vi sembra interessante lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per ricevere le notifiche e lasciate i vostri commenti, dicevamo Bitcoin 43.500 dollari più o meno allo stesso livello rispetto a ieri, stiamo ancora mantenendo il minimo di 42.000 dollari all'incirca raggiunto direi nella giornata di ieri, se guardiamo il nostro livello di Fibbonacci, lo 0.61 è ancora intatto, quindi abbiamo ancora rimbalzato in prossimità del livello dello 0.61, quindi per adesso il livello sta mantenendo il prezzo. Questa linea azzura che vedete qui sotto è la media mobile dei 200 giorni che sta arrivando molto vicina ai 40.000 dollari, quindi se dovessimo a mio avviso perdere questo livello potremmo rimbalzare velocemente in prossimità proprio della media di 200 giorni. Se guardiamo questa trend line di resistenza, supporto, supporto e probabilmente in questo momento supporto può esserci una trend line discendente di supporto, quindi questa potrebbe essere una grande direi bull flag con eventualmente una continuazione del bull market verso l'alto, quindi sicuramente per essere certi che il bull market continuerà dobbiamo spingerci al di sopra di questa trend line discendente. Vi ricordo che anche se questo fosse eventualmente la fine del bull market e l'inizio di un più prolungato mercato ribassista, comunque di solito bitcoin rimbalza per andare a testare determinati livelli di resistenza. E se andiamo a guardare mi aspetto comunque in ogni caso un rimbalzo, se questo fosse il minimo che è stato raggiunto, mi aspetto comunque un rimbalzo almeno a livello dello 0.5 o dello 0.61, quindi a livello dei 50.800 o eventualmente addirittura dei 52.900, quindi lo 0.5 o lo 0.61. Quindi bitcoin per continuare il suo trend che in questo caso sarebbe ribassista, comunque testa livelli superiori come resistenza per poi eventualmente continuare la sua corsa a ribasso. Quindi mi aspetto nel breve eventualmente un rimbalzo. Fatemi sapere cosa ne pensate a riguardo. Ragazzi guardiamo poi questo indicatore di cui vi parlavo all'inizio, molto interessante, è la Sheribbon, parla del mining, della capitulazione e del recupero dei miners, quindi un indicatore un po' particolare. E in questo momento siamo molto vicini a ricevere un segnale di acquisto ed è un indicatore veramente molto efficace e molto preciso. Pensate che in passato questo indicatore, se prendiamo questo articolo, ci mostra qual è la media di profitti che si può estrarre andando a comprare bitcoin quando arriva il segnale di questo indicatore e andando a vendere al potenziale successivo top. Ovviamente non è facile andare a capire quando c'è il top preciso, ma in media l'indicatore porta un profitto del 4157% e l'ultima volta che questo indicatore ha flashato un segnale di acquisto, forse ve lo ricorderete se già seguivate il canale Crypto Salad, ne parlavamo, era dicembre, inizio dicembre 2020, bitcoin si trovava a 18.000 dollari, era già salita molto, c'era questo segnale di acquisto e c'era scetticismo sul fatto che bitcoin potesse continuare a salire e arrivare a 60.000 dollari. Così è stato, bitcoin dai 20.000 è arrivato in poche settimane e qualche mese praticamente a toccare un top di 64.000. Quindi ragazzi in questo momento stiamo per ricevere un segnale equivalente che potrebbe spingere se si avverasse come in passato bitcoin molto vicino ai 100.000 dollari. Fatemi sapere cosa ne pensate se a vostro avviso questo indicatore è affidabile e lo sarà anche quando arriverà il prossimo segnale di acquisto, ormai direi nei prossimi giorni perché la capitolazione dura all'incirca 30 giorni, ci siamo entrati in capitolazione intorno al 24 di aprile, quindi stiamo uscendo dalla capitolazione proprio adesso. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ragazzi guardiamo poi infine la chart molto interessante della market cap del mondo cripto e come vedete questa linea azzura è la media mobile delle 9 settimane e in questo momento nonostante bitcoin abbia perso non solo le 9 settimane ma anche le 20 settimane la market cap totale delle cripto non ha neanche perso il supporto della media mobile delle 9 settimane ed è un livello molto importante perché se guardiamo tutto il bull market del 2017 quindi direi a partire da gennaio in questa circostanza fino a fine anno il prezzo ha rimbalzato sempre, scusate il prezzo, la market cap totale del mondo cripto ha rimbalzato per poi continuare sempre in prossimità o quasi della media mobile delle 9 settimane o forse 10 settimane, sì 10 settimane in questo caso. Quindi in questo momento ragazzi nonostante bitcoin stia perdendo livelli chiave molto importanti di cui già abbiamo parlato nell'ultimo episodio la market cap totale del mondo cripto lascia ben sperare. Fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate, grazie per la vostra attenzione e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!